I nostri pazienti hanno costruito l'impero. Peccato che qualcuno nel tempo non è riuscito a tenersi l'uscetto. Tu si fa la razza. Un rispetto è la prima cosa. La prima. In questo quartiere più ci resti più ti mangia. Carose, ma ci stiamo fanno cazzo? Ma quello, ma... E non me lo voglio andare da qui. Ma perché? E non lo vuoi vedere il mondo? Ti fai un viaggio con tua madre e poi magari ritorni. Stasera io e Antonino prendiamo la nave per Genova. Bella, brava, giusto. Franco, vieni pure tu. Vuoi ragionare con la tua testa? Vattene vuoi andare con loro? No, vattene con loro. Vattene! La verità è che non tutti possono gestire un impero. Non, vattene. Vattene se va avere il genere. Vattene? Vattene. Vattene!